A Tokyo gli anime sono più di un passatempo, sono la linfa vitale della città. Se vi trovate lì, ecco 6 cose che un fan degli anime deve assolutamente fare. Nascosto sottoterra, il bar 44 Sonic è il luogo perfetto per incontrarsi tra fan degli anime. È un piccolo bar pieno di oggetti legati agli anime e di action figure d'autaku. Attaccate il bottone con il bar master e vi servirà un cocktail unico basato sui vostri personaggi preferiti degli anime. Il tutto mentre guardate anime a vostra scelta su uno schermo televisivo. Non ci sono bariere di linguaggio fra gli otaku. O comunque, ci sono, ma ci siamo capiti. One Piece sta celebrando il suo ventesimo anniversario. Non c'è momento migliore per visitare la Tokyo One Piece Tower. Lo spettacolo dal vivo One Piece Live Attraction 3 Phantom è appena arrivato ed è stupefacente. Ma potete anche mettervi alla prova con Zoro Solo Veg, affrontando il fuoco dei cannoni, o farvi una passeggiata in Luffy Sandless Adventure per accompagnare Monkey D. Luffy nel suo tentativo di diventare re dei pirati. State facendo provviste per impegnarvi a diventare maestro di Pokémon? Fate un salto al Pokémon Center Mega Tokyo. Hanno tutto quel che può servire un allenatore, tra snack, spille, cancelleria, vestiti, carte e peluche veramente di qualsiasi cosa. Portatevi una moneta da piallare e non dimenticatevi di farvi una foto con Charizard prima di andartene. Pensavate di averli acchiappati tutti? Non ci siete nemmeno vicini. Nakano Broadway è nota come la mecca degli anime e nasconde alcune fra le collezioni di anime più vaste e uniche che abbiamo visto. Ci sono oltre 12 piccoli negozi Mandarake, che è una catena specializzata in manga, anime e relativo merchandise, che va dai manga più vintage all'ultima raccolta di One Punch Man. Potete scambiare carte di Pokémon o cercare action figure rarissime. Si trovano tutti i tipi di manga, quindi prendetevi il tempo per esplorare con calma. Quasi tutte le sai giochi di Tokyo contengono questi enormi pod da battaglia. Gundam Bones of the Battlefield Rev 4 ti piazza in cabina di pilotaggio del tuo mobile suit e ti proietta davanti un campo di battaglia enorme. Il gioco si trova in un P.O.D. panoramica all'optical display con i comandi su mani e piedi ed è quindi un'esperienza totalizzante. Fino a 4 giocatori possono unirsi in cooperativa con chat vocale fra i pod per una vera esperienza anime coinvolgentissima. Riuscirete a sconfiggere il nemico assieme? Ma certo, siete su un Gundam! Gli anime sono sempre andati in mano nel tentacolo con il cosplay e se cercate la miglior selezione possibile di costumi e attrezzature dovete visitare Cospa G Store Akiba. Si dipada su 6 piani e a tutto quello che può servirvi. Si va dal merchandise ufficiale ai cosplay di livello professionale basati sui vostri giochi e anime preferiti. Via via fino a costumi e accessori per la vostra collezione di bambole. Sì, bambole, non si è mai troppo vecchi. All'ultimo piano si trova uno dei made cafe originali che si è visto nell'anime Love Live. Questi sono 6 luoghi fantastici che abbiamo scovato per i fan degli anime ma se ne conoscete altri, ditecelo nei commenti! Grazie! 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 Grazie!